Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci come promesso nello spazio dedicato ai vocalizzi. La settimana scorsa è uscito un video che parla di questa tecnica di come riscaldare la voce utilizzando una bottiglietta e una cannuccia e quindi adesso facciamo un esercizio proprio per utilizzare questa tecnica. Premetto che solitamente questo esercizio, per fare questo esercizio si utilizza un tubo di gomma. Se voi scrivete l'Axvox tubo di gomma lo trovate anche online, lo potete acquistare. Io vi lascio comunque un link in descrizione su dove poterlo trovare. Ma andiamo a fare il vocalizzo, siamo qui con Maria Nicoletti. Ciao a tutti! Che ci aiuterà per far vedere insomma le voci femminili come fare. Mentre io mi recupero delle voci maschile. Visto che io ho una voce bassa, no? Ciao! Magari no, no. Però cercheremo di fare per tutti i registri, per tutti i range vocali. Allora, partiamo dai bassi proprio. L'esercizio è molto semplice. Siccome con questa tecnica solitamente si fanno le sirene, quindi... In questo modo... Vi ricordo di stare sempre leggeri e respirare con il diaframma. Proviamo a partire da un suono molto basso, che è il mio... Per i bassi utilizzando la bottiglietta. Andiamo! Ovviamente per le donne sarà... Ok, non so se si sente bene, però le note sono queste. Andiamo avanti. Ok, facciamo insieme. Vi ricordo di tenere la canuccia sempre alla stessa altezza, in modo da sfruttare la resistenza sempre uguale durante tutto l'esercizio. Allora, facciamo insieme. Allora, facciamo insieme. Giusto per fare chiarezza, gli uomini qua stanno facendo... Mentre le donne... Spero si capisca bene. Andiamo avanti. Bene, fermiamoci qui, torniamo indietro, in modo che non andiamo troppo all'estremità, perché se siete da soli e non c'è il maestro di canto, magari può essere un esercizio che si va troppo oltre e può anche darvi fastidio. Voi se sentite fastidio, fermatevi, fin dove arrivate e poi tornate indietro. Ok? Scendiamo. 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 Provate ad andare da solo voi. pensate sempre una U dietro donne femminucce andiamo avanti per le voci più basse non è che per le donne che hanno la voce bassa siccome lei la voce è alta si è fermata provaci ci vai esatto andiamo giù ultimo bella voci bassi bene ragazzi spero insomma che questo esercizio vi sia stato utile ripetetelo cercate di arrivare di partire da dove è più comodo per voi e di arrivare fin dove ce la fate senza esagerare mai ok io ringrazio Maria grazie a te e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao